Grazie a tutti. 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 Grazie, grazie direttore, ben trovati. Grazie a tutti. 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 anche di farvi una presentazione di quello che sarà la nuova pagina del sito per rendere sempre più trasparenti i nostri interventi sul territorio, quindi la pagina dove siamo a lavorare è stata rieditata, è stata resa sempre più leggibile, comprensibile e soprattutto più comunicativa per tutti voi, anche nell'aspetto che riguarda le segnalazioni delle problematiche che magari qualcuno che passa nei sentieri ritiene necessario informare il parco perché si risolva il problema nel più breve tempo possibile. Io a questo punto colgo il messaggio di Coraggio Teofili, inderogare la parola a lui che ci spiega un po' il percorso che dobbiamo affrontare per il rinnovo 2021-2024, Coraggio Teofili è un collaboratore di Peder Parchi, io ci tengo a precisare che tutti i percorsi della CES e di tutti i parchi nazionali sono avvenuti con un protocollo siglato tra il Ministero dell'Ambiente e Feder Parchi e poi singolarmente per ogni parco, quindi Feder Parchi ha accompagnato questo processo per tutte le aree protette nazionali italiane. Quindi la ringrazio anche per i risultati ottenuti, per l'impegno che sta promuovendo, soprattutto per tenere sempre l'attenzione nel rinnovamento e quindi non creare l'accesso a una cosa che poi viene messa lì come semplice bollino e non più utilizzata per meglio definire le strategie. Quindi Corrado puoi condividere lo schermo, ti abbiamo messo in condivisione per cui ti do volentieri la parola. Grazie mille, è un piacere parlare, diciamo è un privilegio parlare dopo Presidente e Direttore ed è sempre un piacere parlare quando si ha a che fare con il Parco Nazionale delle Cinque Terre. E considerato che appunto c'è anche il Presidente di Feder Parchi, Giampiero Sammuri collegato e che concluderà, lascio a lui poi le valutazioni di più ampio respiro e io ecco se siete d'accordo magari mi soffermerò soprattutto su quelli che sono gli aspetti tecnici relativi alla fase di nuova candidatura, rinnovo della candidatura. Come sapete lo accennava il Direttore qualche minuto fa, la Carta del Turismo Sostenibile per le Aree Protette, che oramai è stata sperimentata da oltre vent'anni in Europa, grazie a un progetto finanziato dall'Unione Europea e che ha coinvolto alcuni parchi italiani, francesi e spagnoli e quindi è un prodotto ed un esempio di una collaborazione sicuramente virtuosa che è stata svolta a livello europeo, fin dalla sua ideazione è composta in tre fasi o in tre parti cronologicamente indipendenti che sono appunto la prima parte quella che riguarda le singole aree protette e che le vede protagoniste nel processo di applicazione della metodologia al proprio contesto ambientale e questa parte è quella che viene riconosciuta attraverso una valutazione condotta da valutatori selezionati, esperti e formati da Europark Federation e che appunto dura all'incirca dall'inizio del processo circa un anno, insomma qualche mese per la sua definizione e viene appunto presentata tutta la documentazione in generale alla fine dell'anno nel corso dell'anno successivo fra primavera ed estate si ha da un lato la visita di verifica dall'altro la comunicazione dell'avvenuto riconoscimento da parte di Europark Federation Federparchi ovviamente è particolarmente impegnato a livello nazionale nell'applicazione della metodologia da un lato perché è l'associazione di riferimento delle aree protette quindi ha tutto l'interesse se volete a promuovere un'ottima metodologia per il turismo sostenibile a scala nazionale dall'altra Federparchi è anche la sezione italiana di Europark Federation quindi diciamo è l'ufficio se volete ma diciamo il rappresentante italiano è più corretto di Europark Federation e quindi ha un doppio interesse a promuovere questa attività. La seconda parte della carta è appunto quella che riguarda la parte due e che prevede in questo caso non più il coinvolgimento di Europark Federation ma l'azione diretta sia di Federparchi che adatta la la metodologia definita da Europark Federation è adattata la metodologia definita da Europark Federation al contesto italiano alla realtà italiana e alle peculiarità italiane in questo caso però responsabile dell'applicazione della metodologia e del riconoscimento della certificazione diciamo è anche un po' riduttivo chiamarla certificazione perché si tratta di un accordo di collaborazione volontaria in cui c'è una reciproca volontà ad ogni livello quindi nella prima parte, nella seconda parte, nella terza di cui parlerò fra qualche secondo fra le diverse parti coinvolte. In questo caso nella parte due appunto è l'area protetta nel caso del Parco Nazionale delle Cinque Terre che riconosce e coinvolge operatori del turismo ma che possono andare dalle singole guide del parco o cooperative che si occupano principalmente dell'educazione ambientale fino a alberghi, ristoranti, villaggi turistici e anche tour operator. Lì coinvolge nonché anche tutti gli altri attori coinvolti in qualche modo a livello locale nelle attività di promozione turistica come possono essere dalle prologo alle agenzie regionali di protezione del turismo diciamo ecco qualche qualcuna delle categorie coinvolte tra i vari stakeholder si impegnano nella parte due per sviluppare degli accordi privilegiati se volete di collaborazione e di reciproco scambio di attività e di lavoro affinché il lavoro del singolo operatore possa da un lato servire per migliorare le proprie offerte e la propria condizione in termini di sostenibilità ambientale dall'altra per aiutare l'area protetta nel raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali principalmente quelli che riguardano la conservazione e la gestione della biodiversità. Nella parte 3 della carta che io penso sia poi il passaggio che il parco intraprenderà a brevissimo perché appunto il parco dei Cinque Terre è stato sempre più che veloce e attento nella realizzazione delle varie fasi anche diciamo vorrei dire molto intraprendente da questo punto di vista. Nella terza parte vengono coinvolti diciamo gli attori ancora più esterni rispetto alla gestione del turismo in senso lato i tour operator che scelti anche in questo caso dall'area protetta possono definire insieme agli operatori che sono coinvolti nella parte 2 dei pacchetti turistici, dei programmi turistici poi oramai sapete meglio di me il turismo diciamo è diventato qualcosa di molto anche dinamico, fluido e complesso e quindi non solo il tour operator così come veniva inteso una volta è diciamo il soggetto che sviluppa pacchetti turistici sul territorio quindi le tipologie di tour operator tra virgolette potranno essere molto molto ampi e molto variegate, potranno essere degli operatori che lavorano esclusivamente su internet potranno essere degli operatori che si occupano di piccole attività sul territorio la scelta è ampissima e anche in questo caso Federparchi ha definito una metodologia che si adatta abbastanza bene alla situazione italiana e che può essere adottata efficacemente nelle varie aree protette perché tutto questo e tutto il processo si realizzi e si mantenga nel tempo però c'è bisogno di una cosa fondamentale c'è bisogno che l'area protetta mantenga la sua condizione di area riconosciuta da Europark Federation con la parte 1 CETS e quindi che venga perennemente insomma che venga periodicamente rinnovata la certificazione CETS laddove dovesse mancare per ragione o per assurdo la certificazione da parte di Europark Federation della parte 1 CETS quindi la certificazione concessa alle aree protette automaticamente tutte le altre parti, tutte le altre fasi decadono perché appunto valgono solo laddove esiste una certificazione di parte 1 per questo diciamo questa fase è una fase in generale difficile ma molto delicata perché è importante che il parco dopo i primi 5 anni di lavoro e di ottima applicazione del proprio piano di azione per il turismo sostenibile è chiamato a rinnovare e quindi a farsi riconoscere nuovamente la certificazione che ha ottenuto 5 anni fa. Una delle cose fondamentali da fare è quella di fare il monitoraggio sulle azioni svolte da questo punto di vista il parco grazie al lavoro dei vari collaboratori fra parte del direttore insieme è Enrica che presenterà fra poco i risultati ha fatto un lavoro incredibile e ottimo per quello che riguarda la parte di monitoraggio delle attività svolte in questi 5 anni sulla base dei risultati del monitoraggio il parco insieme agli operatori coinvolti nel forum CETS quindi nel gruppo di lavoro finalizzato alla carta dovrà definire un nuovo piano di azione valido per i prossimi 5 anni molte azioni potranno rimanere le stesse se sono azioni giustificate anche nel futuro molte azioni saranno nuove considerata la situazione quello che già abbiamo detto ad Europark è che essendo un momento così difficile soprattutto per gli ambiti del turismo e per gli operatori locali probabilmente il piano non sarà il massimo che si può ottenere ma essendo il piano come sapete uno strumento molto dinamico e molto fattibile di arricchimenti, aggiunte, migliorie nel corso degli anni sicuramente nel corso degli anni prossimi sarà anche possibile prevedere un incremento delle attività perché no? Un miglioramento delle attività, una variazione di quelli che sono i contenuti del piano proprio perché magari gli operatori nel giro di qualche tempo riescono a ragionare anche in maniera più serena lo diceva il presidente qualche minuto fa rispetto a quello che può essere il futuro delle proprie attività e anche delle principali attività rispetto alle proprie risorse economiche quindi oggi giustamente è una giornata importantissima perché è il punto di snodo fra il passato e il futuro oggi verranno presentati i risultati del monitoraggio, oggi comincerete e cominceremo e io mi scuso perché fra poco dovrò scollegarmi ma fortunatamente rimane la registrazione della riunione e mi riprometto di ascoltare ogni passaggio perché oggi è il momento anche fondamentale per riuscire a capire se le strategie definite cinque anni fa possono rimanere valide nel contesto ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, se le azioni quali possono essere ripetute quali attori possono essere coinvolti da zero, quali possono rimanere, a quali si può chiedere di aspettare magari di coinvolgere fra un anno e così via. Oggi è una giornata fondamentale e con questo ringrazio tutti e auguro a tutti buon lavoro e buona riunione Grazie Corrado, io mi scuso ma ho perso una piccola parte del tuo intervento perché avevo perso la connessione adesso mi è ritornata e quindi grazie per aver spettato bene quello che è il percorso della CEZ e diciamo che chi sbaglia va in prigione direttamente senza passare dal via nel senso che si annulla tutto e si riparte tutti da capo però speriamo che questo non avvenga perché credo che l'impegno di tutti è talmente mirato al raggiungimento di una sostenibilità per il territorio delle 5 terre che non ci possiamo permettere questo passaggio a vuoto e quindi a maggior ragione l'impegno di tutti, la partecipazione di tutti è fondamentale intanto volevo informarvi che questo è un forum dove spieghiamo i monitoraggi, i risultati del primo quinquennio e andiamo verso il nuovo piano di azione chiaramente a gennaio partiranno poi i forum all'interno dei quali ci confronteremo e all'interno dei quali ognuno di voi esporrà il proprio pensiero e insieme a noi costruirà il nuovo piano che è quello che tutti ci aspettiamo e col quale dovremo chiaramente fare conti con il momento poco chiaro per il futuro che ci aspetta però mi auguro che nei prossimi mesi la situazione evolva nel migliore dei modi e darei la parola a questo punto a Fabrizia Pecunia che è il sindaco di Rio Maggiore, vicepresidente del Parco per un saluto e per un suo pensiero Buongiorno a tutti innanzitutto grazie della riunione di oggi credo che sia veramente importante per due aspetti fondamentalmente il primo perché oggi abbiamo l'opportunità di fare il punto sul lavoro svolto in questi anni e concedetemi l'occasione per ringraziare il direttore perché è riuscito a tenere le fila anche appunto in momenti non facili come questo degli ultimi mesi che abbiamo vissuto ma puntare sulla CES puntare sulla qualità e quindi non voglio ripetere l'intervento della Presidente che condivido parola per parola però è il nostro obiettivo oggi ma soprattutto è oggi che dobbiamo insieme costruire la pianificazione futura e questa rappresenta una grandissima occasione una grandissima opportunità in quanto strumento operativo col che noi abbiamo a disposizione per poter disegnare la strategia futura in questi anni abbiamo parlato tanto del turismo, del tipo di turismo che vogliamo, di come vogliamo essere ma soprattutto come ci vogliamo presentare verso l'esterno ecco, in questo processo abbiamo, ognuno di noi ha l'opportunità di mettersi in gioco di partecipare concretamente di costruire insieme quello che è il percorso che vogliamo adottare ovviamente la CES è soltanto una parte del disegno complessivo ma credo che rappresenti una parte molto importante anche perché ci permette di coniugare non solo il tema dell'accoglienza turistica e diciamo della qualità per quanto riguarda i servizi ma anche un tema ambientale che rappresenta un po' il futuro anche a livello europeo e insomma internazionale del percorso che diciamo di tutela dell'ambiente quindi essendo noi all'interno di un parco nazionale io credo che abbiamo una ancora maggiore responsabilità su tutti i fronti sui quali abbiamo il dovere di lavorare e quindi mi piace ecco l'idea di questa partecipazione attiva da parte di tutti gli stakeholder e i forum saranno veramente una grandissima occasione per confrontarci davvero nel merito di quelli che sono gli obiettivi che vogliamo darci sicuramente il 2020 è stato un anno difficile un anno che nessuno di noi si sarebbe immaginato di poter vivere non così e anche oggi siamo ancora in una condizione di incertezza estremamente elevata e questo ci condizionerà condizionerà probabilmente anche il lavoro che porteremo avanti perché l'orizzonte temporale e le condizioni generali nella quale noi dovremo prendere delle decisioni oggi non sono ancora definite c'è ancora un'incertezza che andrà avanti sicuramente sul 2021 e forse ancora di più e quindi il nostro compito per questo motivo è ancora più difficile però abbiamo la fortuna di poter lavorare in un contesto unico a livello internazionale e soprattutto con degli strumenti che con delle potenzialità estremamente elevate quindi credo che si possa fare un ottimo lavoro e che le varie fasi che andremo ad affrontare aiuteranno tutti noi anche nei nostri ruoli per quanto riguarda il comune e il parco ruoli istituzionali ma anche gli operatori del territorio potranno cogliere veramente questa come una grandissima opportunità io non mi dilungo vi ringrazio e seguirò con molta attenzione i lavori della giornata e sono convinta che nei prossimi mesi riusciremo ad ottenere ottimi risultati dall'applicazione di questo processo grazie grazie al sindaco vorrei aggiungere che se otteniamo dei risultati è sempre la squadra che lavora unita quindi io associo il ringraziamento a tutti i miei collaboratori del parco che sono riusciti a fare squadra e a lavorare su questo tema in maniera molto convinta Francesco Villa sindaco di Bernazza Salve a tutti vi saluto tutti grazie per avermi accettato nella vostra riunione perché non è che abbiamo tutti il diritto di partecipare dobbiamo meritarci adesso 5 anni fa abbiamo tenuto tutto da quello che ho sentito credo che adesso le cose siano migliorate quindi a maggior ragione otterremo ancora di più perché già il fatto di avere la donna a terra come presidente è già un qualcosa che ci sicuramente ci dà prestigio e quindi sicuramente otterremo ancora di più e ancora meglio il nostro compito noi siamo gente fortunata noi viviamo in un parco dove la bellezza naturale di per sé è già da sola un veicolo che ci può solamente che trasformare in avanti e quindi facciamo ben poca fatica per fare in modo che il turismo venga che ci trovi bene il nostro impegno chiaramente è quello di lavorare in armonia cosa che mi sembra molto ma molto Florida in questo momento qua noi siamo andiamo d'accordo tutti non abbiamo mai avuto nessuna discussione quindi il futuro non può essere che rosio il covid ci ha dato un'ammazzata chiaramente come ha dato un'ammazzata a tutto il resto d'Italia però noi sicuramente sono ottimista riusciremo a uscirne fuori ancora meglio di prima la presenza i collaboratori professionali come siamo quelli che normalmente ci confrontiamo tutti i giorni ci da già una carta da giocarci per il futuro quindi vedo tutto rosa sicuramente perché siamo una bella squadra e di questo ringrazio tutti sicuramente grazie sindaco direi l'aspetto importante di questa fase della cese che siamo partiti con sindaci diversi dagli attuali sono cambiati sindaci sono cambiati presidenti ma la voglia di raggiungere l'obiettivo della sostenibilità del territorio attraverso la partecipazione è cresciuta continuamente e questo è un aspetto molto importante e credo che mai come in questo momento la partecipazione sia così efficace e trasparente quindi dobbiamo approfittare per costruire un progetto solido per il futuro a questo punto tocca a Enrica Maggiani che è diciamo uno degli interventi più attesi già richiamato perché ci racconterà fra un po' quello che è successo in questi cinque anni quali sono stati gli obiettivi che abbiamo raggiunto ne avevamo circa 40 qualcuno non è stato neppure affrontato perché poi nel tempo qualche obiettivo non è più attuale oppure magari qualche obiettivo è stato raggiunto parzialmente perché non siamo riusciti a ottenerlo e questo ci deve aiutare a essere più bravi per il futuro quindi Enrica Maggiani puoi condividere lo schermo e ti lascio il microfono e la presentazione ok buonasera intanto provo con la condivisione dello schermo presentazione bene così ci sono troppe immagini che disturbano ok cerco di marginalizzarle o di ridurle allora buonasera a tutti intanto ringrazio preliminarmente delle sue parole gentili Corrado Teofili che ho dovuto lasciare la riunione di questa sera e cerco di condensare i risultati del monitoraggio del piano d'azione e per prima cosa credo di dover ahia qua stop un attimo dunque ho un problemino ok forse qua ok qualche data per collocare temporalmente il ragionamento il piano d'azione viene redatto nel 2014 il piano d'azione è il documento che raccoglie i progetti le linee guida sulle quali il territorio in questo caso il parco nazionale delle 5 terre si deve muovere in questa ottica in questa prospettiva CETS vedremo che è un piano che si tratta di un piano complesso e che ha avuto un momento importante nel 2015 perché la certificazione CETS viene concessa al parco delle 5 terre sulla base appunto del piano d'azione che viene proposto quale sia l'obiettivo della CETS credo l'abbia spiegato benissimo Corrado Teofili e comunque la gestione del turismo nell'area protetta in maniera compatibile in equilibrio tra le risorse del territorio il benessere della comunità dei residenti ma in un meccanismo di collaborazione volontaria e questa è una chiave di lettura estremamente importante Sorvolo vista anche l'ora sui principi fondamentali della CETS dei quali metto a fuoco quelli che ritengo che riteniamo siano i fondamentali cioè prioritariamente la capacità di lavorare con uno spirito di collaborazione in partnership con i soggetti del settore turistico dell'area protetta e anche incoraggiare l'utenza i flussi turistici i visitatori verso forme di esperienza del territorio più rispettose delle risorse e dello stile di vita tradizionale un obiettivo complesso e articolato le fasi della CETS anche queste devo dire che Corrado che mi ha preceduta le ha disegnate con molta chiarezza a questo punto posso decisamente concentrarmi sul piano d'azione il piano d'azione è stato preceduto da un'attività di ascolto di tutti i soggetti locali coinvolti si sono svolti in anni precedenti nel 2014 e nel 2015 incontri sono state raccolte le voci delle comunità residenti degli operatori e grazie a questa intensa attività sono state individuate tre linee strategiche fondamentali l'offerta turistica che deve essere originale innovativa e di qualità mai ripetitiva non lontana dalla ripetizione di cliché che portano a consumare non solo le risorse ma anche l'immagine del territorio altro obiettivo strategico importante è la riscoperta da parte della popolazione della propria identità e dell'identità del territorio e il terzo punto la gestione del territorio nella valorizzazione e nella protezione delle risorse naturali naturali in base a queste tre linee strategiche e nell'attuazione dei dieci principi CES quindi un lavoro veramente di incrocio di obiettivi e di esigenze di aspirazioni sono state individuate 40 azioni molto concrete molto specifiche per ciascuna azione il piano d'azione aveva ha previsto elementi ben chiari chi devono essere i soggetti responsabili quindi promotori quali sono i soggetti coinvolti i tempi per la realizzazione le risorse stimate e anche le modalità di monitoraggio dell'attuazione dell'azione il monitoraggio è chiaramente un momento di autocritica da parte del parco e dei soggetti che hanno partecipato all'attività autocritica che deve essere affrontata e che abbiamo affrontato con una come dire grande onestà intellettuale prima però vi lascio in un momento ancora di suspense sui reali esiti poi del monitoraggio per ricordare a grandi linee quali sono state le 40 azioni non elenco una per una ci vorrebbe veramente moltissimo tempo ma ricordo che appunto per ciascuna linea strategica ad esempio quella relativa all'offerta turistica le azioni hanno riguardato prioritariamente la qualificazione delle strutture ricettive e di ristorazione a partire dalla formazione degli operatori del settore e su questo notizie ben più precise vi darà l'intervento che seguirà a cura del CEA di Stefano Amorodo sempre nell'ottica del minoramento dell'offerta turistica il miglioramento dei servizi di accoglienza dove il punto centrale dell'accoglienza è l'informazione la comunicazione la capacità di trasmettere a chi arriva per visitare i nostri luoghi i valori naturalistici culturali legati ad esempio altro punto importante alla valorizzazione dei prodotti tipici locali che sono legatissimi alla filiera gastronomica l'offerta di ristorazione e poi altro aspetto dell'offerta turistica originale sono i cosiddetti campi di volontariato i soggiorni legati ad esperienze di tutela di conoscenza del territorio ad esempio i campi per il monitoraggio ambientale procedo la seconda linea strategica la popolazione riscopre se stessa il territorio tra le azioni due particolarmente significative che desidero ricordare sono state l'implementazione degli strumenti per la divulgazione della cultura e delle tradizioni locali primo tra tutto il sito web e la valorizzazione di attività tradizionali poi vedremo in fase tra pochissimo in fase di bilancio di monitoraggio che non tutto ha funzionato alla perfezione ripeto grande onestà intellettuale nel riconoscere questi momenti di debolezza e che è proprio l'elemento più prezioso per programmare l'azione del futuro la terza linea strategica c'è la gestione del territorio ha previsto tra le varie multiforme azioni i monitoraggi sugli impatti sia sulla terraferma che nell'area marina protetta prevenzione antincendio iscoidrogeologico trattamento di diversi tipi di rifiuti riduzione degli impatti ambientali la gestione dei trasporti e dei movimenti turistici il monitoraggio chiaramente avviene secondo delle linee guida che sono date da Federparchi e per il monitoraggio lo strumento proposto è una scheda di lavoro che qui vedete riprodotta ho evidenziato la parte relativa al giudizio la faccina che sorride in verde la faccina con le labbra serrate intermedia e quella invece che fa il broncio negativa una maniera per sintetizzare la enorme molle di informazioni che deriva da un'attività di monitoraggio di un periodo così lungo e di così tante azioni devo dire che il mio lavoro è stato facilitato di raccolta dei dati è stato facilitato da momenti di monitoraggio che sono avvenuti a partire dal 2015 fino a tutto il 2019 e oltre attraverso grazie all'attività del parco del personale dei consulenti del parco per cui ci sono stati diversi momenti che hanno consentito insomma di adesso perdonatemi il paragone di misurare la temperatura ormai siamo tutti un po' ossessionati da questa cosa qua tutte le informazioni vengono poi sintetizzate in una tabella sinottica che qui ho riprodotto non perché la leggeste o che la potessimo leggere insieme ma per darvi un'idea della complessità e della quantità di informazioni che vengono poi raccolte e sintetizzate e in particolare le informazioni date relative a monitoraggio CES sono state correlate alle informazioni del monitoraggio EMAS ai fini del monitoraggio abbiamo chiaramente reperito informazioni su tutte le 40 azioni e principi del piano d'azione con risultati che ci confortano perché su 40 azioni l'82,5% sono state attuate anche se con alcuni discostamenti rispetto alle previsioni del piano d'azione discostamenti che possono essere di vario tipo e che sono stati registrati dagli indicatori adattati talvolta alle variazioni delle modalità di realizzazione dell'azione una minoranza di azioni sono state attuate solo parzialmente ed alcune sempre una quantità molto ridotta non sono state attuate questo è il momento di autocritica bisogna capire perché queste azioni hanno presentato criticità e su questo poi possiamo anche aprire un momento di riflessione ulteriore quelle che hanno avuto un successo più conclamato maggiore grado di aderenza agli obiettivi prefissati sono quelle che illustro in questa parte diciamo la fase con la faccina che sorride nella linea strategica dell'offerta turistica la tutta l'iniziativa le iniziative legate al percorso CET il forum l'attività formativa sono state e se proprio per loro fin dall'impostazione sono state un successo sono state un'attività che si è svolta con partecipazione e con risultati apprezzabili l'attivazione della fase 2 che ha coinvolto gli operatori e la convergenza tra il marchio di qualità e la CET e su questo poi lascio volentieri nello spazio a Stefano Amoroso del CEA l'identità locale ugualmente ha avuto momenti di successo nello sviluppo del sito web e le altre modalità di comunicazione che sono grandemente state grandemente sviluppate hanno avuto un notevole incremento nel periodo considerato il sostegno dato al parco ai nuovi agricoltori attraverso delle azioni concrete di forniture di materiale assistenza formazione e poi un tema assolutamente trasversale in realtà tutte e tre le linee strategiche che è l'educazione alimentare la valorizzazione della filiera produttiva locale la sensibilizzazione alla biodiversità in agricoltura la gestione e tutela del territorio forse è stata la linea strategica di maggior successo maggiore anche rispetto alle altre due la ricerca e il monitoraggio sul rischio idrogeologico e sinergici a questa azione i progetti attuati di manutenzione dei sentieri con diverse modalità in diverse occasioni le attività cioè i progetti gli interventi per il miglioramento del trattamento dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti solidi per il trattamento dei rifiuti reflui il miglioramento dell'infocenter del parco le esperienze delle escursioni guidate nel territorio del parco e il monitoraggio dell'attività turistica la vendita la promozione della 5 TR card e la carta multi servizi queste sono le azioni diciamo che sicuramente hanno avuto più successo concludo conclusione rapida per un argomento molto molto vasto ma spero di essere riuscita a darvi una sintesi se si potesse racchiudere in una sola frase in una sola espressione il senso di questo monitoraggio è che si percepisce chiaramente l'evoluzione di una visione cioè l'avvicinamento di questo territorio sempre più da presso ai principi CEZE e la loro attuazione quindi il monitoraggio costituisce come ho detto all'inizio un momento di autoanalisi critica importante per capitalizzare queste esperienze io avrei finito vi ringrazio e vi auguro buone feste grazie Monica e soprattutto ti ringrazio perché tu sei entrata nel momento in cui è un po' cambiato l'assetto del par è cambiato l'assetto riprendere in mano e leggere da esterna un po' tutto quello che si era sviluppato negli anni quindi il tuo giudizio per noi è stato molto importante e costruttivo quindi direi che è stato un supporto determinante proprio per farci riflettere anche su quelle azioni che sono andate bene ma che potevano anche andare meglio come si dice ci sono alcune azioni vedo per esempio la banca del lavoro su tutto che è stata un'esperienza bellissima la nascita della fondazione i progetti che ne sono derivati Stonewalls il coinvolgimento di privati ma tutto questo può essere ancora sviluppato replicato in altre aree e sono particolarmente contento per esempio c'è una zona di Monesteroli dove si sta sviluppando un'azione analoga e mi auguro che porti anche questo agli stessi risultati a Monterosso lo stesso a Vernazza ci stiamo pensando quindi diciamo sono esperienze che poi sono replicate sul territorio e che stanno a dimostrare che lavorando a sistema si riesce a ottenere dei risultati che poi vengono sviluppati all'ennesima potenza e a questo punto direi che è interessante sentire l'intervento di Stefano Moroso che è riuscito a collegarsi nonostante impegni con le figlie quindi lo ringrazio davvero per la corsa che ha fatto Stefano Moroso rappresenta il CEA del Parco dei Cinque Terre e devo dire che questa attività che il CEA ha sviluppato nel coinvolgere le attività turistico-rigettive è stata un'attività determinante per noi è un lavoro enorme che hanno fatto soprattutto nella prima fase quando si è trattato di rileggere il marchio di qualità che aveva il parco alla luce dei principi della CEA per capire che cosa mancava nel nostro marchio affinché fosse CEA ma anche con soddisfazione abbiamo visto che il nostro marchio andava oltre la CEA è un po' quello che vorremmo fare in continuità anche da qui in avanti cioè cercare di sviluppare un marchio che sia sempre maggiormente aderente a quelle che sono le attese del territorio soprattutto estenderlo al mondo agricolo alle attività ai prodotti e che sia un marchio sempre di produzione Stefano Moroso ti do la parola raccontaci l'esperienza della CES2 Perfetto grazie mille direttore allora intanto buonasera a tutti io sono appunto il responsabile tecnico scientifico del centro educazione ambientale del parco e nell'ambito della CEA dell'implementazione della fase 2 sul territorio Enrica è già stata molto esaustiva abbiamo collaborato benissimo nei giorni scorsi farò quindi solo un po' di storia della nostra CEA vi porto peraltro anche i saluti della dottoressa Carlotta Filippo che insieme a me ha redatto oramai oltre due anni fa l'intero sistema di adesione e non può essere presente oggi allora è stato un progetto impegnativo il direttore ci ha affidato ma ne siamo stati ben contenti si è trattato in pratica di armonizzare il marchio di qualità ambientale del parco che già esisteva con le norme nazionali CEZ fase 2 pochi mesi dopo è iniziata l'implementazione del nuovo percorso e arriviamo a oggi periodo pandemico escluso in circa un anno e mezzo abbiamo accompagnato 120 strutture ricettive oltre la verifica relativa alla fase MQA2 2.0 del percorso ossia hanno conseguito il marchio di qualità ambientale del parco e di queste 57 sono già arrivate al completo compimento del percorso relativo alla CEZ fase 2 ora dopo oltre due anni di attività penso di poter dire che la CEZ è diventata uno strumento fondamentale per lo sviluppo turistico sostenibile del parco come di ogni luogo e di ogni area protetta perché la CEZ in ambito di sviluppo turistico dà la concretezza agli obiettivi di sostenibilità che peraltro ricordo a settembre di cinque anni fa sono stati dichiarati inclusi e sottoscritti nell'agenda 2030 dai governi dei 193 paesi membri dell'ONU l'agenda 2030 che peraltro fa ora parte di un programma nazionale per il quale stiamo collaborando in ambito regionale per l'implementazione in locale in questo 2020 non ci siamo fermati a causa della pandemia le attività della fase 2 della CEZ sono proseguite anche se a regime ahimè molto ridotto e una visione che è ottimistica ma spero anche abbastanza realistica abbiamo come obiettivo di riattivare nell'ormai imminente 2021 i corsi di formazione per gli aderenti ossia quei corsi che fanno tutti coloro che entrano a far parte della grande famiglia della CEZ vogliamo proseguire come peraltro è stato detto con i percorsi di certificazione delle strutture e portare ad implementazione anche l'armonizzazione del percorso di certificazione che riguarda le strutture ristorative ossia come già stato fatto per la ricettività vorremmo concludere l'armonizzazione tra l'MQA che esisteva trasformandolo in MQA 2.0 CEZ fase 2 anche per le strutture ristorative così da traghettarle nel nuovo percorso e di avviare cosa di cui avevamo già parlato col direttore non neanche molto tempo fa quello che è completamente nuovo quello che riguarda le produzioni di eccellenza dell'area come quelle ma solo come esempio non perché voglio parlare di quelle delle aziende vitivinicole questo perché siamo convinti che creare il substrato o meglio la massa critica coinvolgere tutte le strutture tutte le aziende ristorative le aziende produttive ossia tutti gli operatori economici dell'area sia fondamentale per poter poi avviare o meglio fornire al nazionale quegli strumenti che permetteranno di avviare la fase 3 ossia quella che prevederà il coinvolgimento di chi costruisce e propone le vacanze perché vorremmo ad arrivare ad avere dei turisti veramente consapevoli e un'economia turistica che tuteli l'ambiente e la storia dei luoghi del nostro paese come di altri purtroppo lo sappiamo spesso sono bellissimi ma anche fragilissimi qui al parco ne abbiamo una concretizzazione di questo problema e vado a concludere perché non voglio togliere tempo ai prossimi presentatori vorrei ringraziare intanto il nostro presidente e il direttore per l'opportunità e per la fiducia nel nostro lavoro che ha sempre dimostrato colgo l'occasione anche per ringraziare anche se non è presente purtroppo Corrado Corrado Teofili che per noi a Roma è stato un riferimento ci ha dato supporto ce lo sta dando ci permette di riuscire a gestire al meglio la fase 2 della CEZ quindi ringrazio tutti e lascio la parola al prossimo grazie ok sento male non ho capito ma mi sembra che mi sia stata data la parola dal direttore che ringrazio e quindi vado brevemente a fare insomma la presentazione su quello che era il compito assegnato quindi provo a condividere lo schermo se mi date conferma che che si vede la presentazione ok quindi brevemente la nascita della giornata della trasparenza come anticipato dal presidente che ringrazio prima nelle parole nasce proprio dal decreto 33 del 2013 che viene anche chiamato il nominato il decreto trasparenza che prevede appunto l'articolo 10 comma 6 nel particolare l'ambito di apposite giornate della trasparenza cioè l'organizzazione di giornate della trasparenza dove l'amministrazione presenta il piano della relazione della performance e presenta anche le attività che vengono svolte dall'amministrazione stessa nel corso dell'anno il decreto il decreto trasparenza però stabilisce oltre alla giornata anche il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni pertanto le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare tutti gli atti e i provvedimenti in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale tale sezione deve essere linkata dalla home page e si chiama obbligatoriamente per tutti amministrazione trasparente a seguito del decreto 33 2013 poi il governo italiano ha realizzato il cosiddetto FOIA ossia il Freedom of Information Act che è un atto che è diffuso in oltre 100 paesi del mondo il primo se non erro fu fatto negli Stati Uniti nel 1966 che quindi è una normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge introduce questo decreto legislativo 97 del 2016 oltre alla modifica di alcuni articoli proprio del decreto 33 anche l'istituto dell'accesso civico generalizzato infatti questo istituto si va ad aggiungere alle altre forme di accesso previste dall'ordinamento per cui al di là del diritto di accesso procedimentale o documentale dove una persona che ha un interesse specifico ad esempio in una gara pubblica e che può richiedere dei dati e dei documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato oltre all'accesso civico semplice che fu introdotto col decreto 33 invece consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto ci sono alcuni limiti all'accesso civico generalizzato e sono sostanzialmente ho messo i puntini nell'elenco perché sono molti e riguardano per esempio i segreti di stato e altre cose diciamo che non riguardano il nostro ente ma sostanzialmente il maggiore limite che è imposto ad un accesso civico generalizzato parla della protezione dei dati personali quindi la cosiddetta privacy la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica i vi compresi proprietà intellettuale diritto d'autore e segreti commerciali quindi un singolo cittadino che fa una domanda di accesso civico generalizzato sa che l'amministrazione non gli risponderà su alcune tematiche in particolare quando queste vanno ad incontrare le ultime categorie che sono riportate in particolare diciamo il caso di norma più frequente è proprio quello sull'istituto della privacy le richieste che possono essere inoltrate anche alla nostra amministrazione si seguono attraverso le modalità di invio che vengono indicate nella pagina dell'accesso civico all'interno della sezione dell'amministrazione trasparente quindi qui è messo il link ma appunto dalla nostra home page seguendo i link all'amministrazione trasparente e gli altri contenuti si troverà l'istituto dell'accesso civico con documenti scaricabili e così l'applicazione web oggi siamo a lavorare invece è un'applicazione che abbiamo sviluppato per cercare di rendere fruibile oltre alla trasparenza dovuta diciamo così dagli obblighi di legge anche da un dialogo continuo nei confronti dell'amministrazione con i cittadini in modo tale questa applicazione consente una facile lettura poiché i lavori sono suddivisi per argomenti e in un ordine cronologico quindi io adesso provo a farvi vedere quella che è la nostra diciamo applicazione come è stata come è stata pensata sviluppata qui vedete la pagina dell'applicazione ci sono allo stato attuale ci sono le prime tre sezioni che sono quella dei sentieri dell'agricoltura e dell'area marina protetta e ce n'è una quarta che riguarda proprio le segnalazioni per quanto concerne la parte dei sentieri viene suddivisa tra una manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari nella manutenzione ordinaria cliccando come vedete c'è sempre la possibilità di vedere in ordine cronologico quelli che sono diciamo gli interventi di norma ora con il discorso dei manutentori della rete sentieristica viene realizzata appunto con una con una data e con un con un titolo di quello che è l'intervento come vedete in questo caso vengono poi specificate quelle che sono tutte le attività per quanto concerne la parte invece sempre dei sentieri abbiamo anche gli interventi straordinari gli interventi straordinari sempre in un ordine cronologico con una sorta di timeline molto semplice ed intuitiva da seguire ci sono c'è la possibilità di seguire quelli che sono appunto gli interventi straordinari con dei link sempre a delle delibere o quelle che sono le determinazioni dirigenziali e con la possibilità di navigare all'interno di uno e dell'altro intervento in questo caso negli interventi straordinari ad una iniziale diciamo così ad un iniziale raccolta dei dati e mostrare i dati che sono per una determinata per un determinato intervento ci sono anche gli aggiornamenti come vedete scorrendo in fondo ci sono quelli che sono stati gli aggiornamenti rispetto alla diciamo all'intervento iniziale questo per far sì che quando c'è una manutenzione straordinaria parte un progetto e lo si può poi seguire all'interno di tutte quelle che sono le diciamo così i vari aggiornamenti le modifiche e quant'altro e questo come vedete ci sono tutti gli aggiornamenti fatti da quello che era in questo caso l'intervento riguardante dei lavori di manutenzione straordinaria sul sentiero Corniglia Vernazza Monterosso ancora brevemente la parte dell'agricoltura ragiona sempre e di quelle che sono invece poi gli interventi presi e così sarà fatto anche per l'area marina protetta per la biodiversità e per altri lavori che l'ente poi porta a compimento una pagina ancora ulteriore è quella delle liste delle segnalazioni che allo stato attuale sulla rete sentieristica ci arrivano mediante delle email sostanzialmente mandate all'indirizzo dell'ufficio sentieri queste queste segnalazioni vengono messe poi attraverso una foto georeferita vengono direttamente caricati su una mappa da questa mappa noi abbiamo la possibilità di andare a vedere lasciando il mouse sopra qual era il problema se è stato risolto o meno e quando e quando questo è stato è stato segnalato come vedete ad esempio questo pino caduto su un sentiero il 17 dicembre non è ancora stato diciamo tolto dal sentiero mentre invece questo segnalato l'otto era stato fatto si può trovare anche una lista attraverso la lista degli stessi gli stessi dati invece che nella cartina e qua si ha riferimento anche del sentiero dove è stato fatto e la data sempre con cui è stata fatta la segnalazione al click su uno di questi oggetti l'oggetto viene georeferenziato all'interno della mappa e anche qua si possono vedere appunto si ha contezza immediatamente di dove si trova la segnalazione eccetera allo stato attuale quindi le segnalazioni vengono fatte attraverso quella che è un invio dell'email all'indirizzo dell'ufficio sentieri però a breve siccome ci è stata consegnata proprio nella giornata odierna l'applicazione nella sua versione 3 di cui vi faccio vedere alcune schermate ci sarà la possibilità attraverso questo modulo di fare una segnalazione di scegliere un file in questo caso si attiverà la fotocamera dello smartphone e se la segnalazione e se la foto è georeferita verrà inviata la segnalazione e comparirà in un secondo tempo direttamente in quella che è diciamo la mappa delle segnalazioni dove ognuno poi potrà seguire direttamente lo stato delle segnalazioni effettuate e appunto se è stato modificato vedete in questo caso l'aggiornamento in data 1912 e l'oggetto per cui si è provveduti alla risoluzione stessa del problema segnalato quindi niente ecco questa poi infine sarà una sezione che è totalmente ancora in fase di sviluppo per cercare anche di far scoprire come avvengono i lavori all'interno della pubblica amministrazione che magari alcune persone non lo sanno e quindi cercare di spiegare da una deliberazione del consiglio e quindi scusate ma sono tornato indietro da una deliberazione del consiglio ad esempio della programmazione dei lavori si ci sono i vari passaggi i vari passaggi che portano dopo tutto questo tempo alla determina di liquidazione dopo l'esecuzione dei lavori quindi cercheremo di sviluppare ancora meglio ancora in modo più intuitivo per l'utente che vorrà vedere appunto dalla programmazione dei lavori all'esecuzione dei lavori stessi alla determina di liquidazione di quanti passaggi sono necessari per arrivare in fondo ai lavori che a volte sono dati per scontato ma purtroppo così non sono ecco io mi fermerei qua chiaramente resto a disposizione per qualsiasi ulteriore curiosità o domande proprio sul sul lavoro che è stato fatto che è stato svolto ringraziando appunto i colleghi che hanno dato una mano a fare tutto questo bene grazie Daniele chiaramente tutta la parte poi delle considerazioni e dei dibattiti te lo lasceremo nel forum di gennaio che sarà quello in cui ci confronteremo soprattutto per il nuovo piano di azione ringrazio Daniele perché la pagina dove siamo a lavorare è un frutto di continui confronti col territorio con le segnalazioni che arrivano quindi speriamo di aver raggiunto un grado di soddisfazione anche verso coloro che hanno la voglia di segnalare al parco e soprattutto capire come avvengono gli interventi e i tempi soprattutto e non ho solo io la difficoltà di connessione perché il sindaco di Monterosso ha perso la connessione e non riesce più a collegarsi quindi lo ringraziamo comunque della sua volontà a meno di intervenire darei la parola per le conclusioni a Gian Piero Sanmuri che è il presidente di Federparchi che ringraziamo per la sua partecipazione e anche per la pazienza che ha avuto ad arrivare in fondo al convegno però dico la pazienza che ha avuto te Gian Piero l'hanno avuta tutti coloro che si sono collegati perché non abbiamo perso un partecipante che uno siamo sempre sui 40 oscilliamo tra i 41 e i 39 quindi direi che la giornata è estremamente positiva da questo punto di vista Gian Piero Allora vi dicevo che è stato molto interessante chiaramente la parte della CETS è ovviamente quella che il pane quotidiano insomma della Federparchi ringrazio quale presidente di Federparchi per i complimenti che sono stati fatti a Corrado che ovviamente per noi segue la CETS quindi mi fa piacere che sia stato apprezzato conoscendo l'impegno e la capacità con cui Corrado affronta queste cose però fa piacere comunque sentirlo e devo dire che per quanto riguarda la parte della CETS naturalmente mi pare che i risultati siano molto rusinghieri con una percentuale molto elevata che non è sempre così elevata in altre situazioni di azioni portate avanti in maniera completa quindi questo è sicuramente un ottimo risultato in altri parchi abbiamo delle percentuali più basse voglio dire nel momento del rinnovo quindi questo è un dato molto positivo diciamo tra le pochissime attività non intraprese c'era una a me molto chiara come sicuramente cara come sicuramente la Presidente Bianchi sa che è quella del monitoraggio delle specie aliene quella per me è un'attività importantissima da fare nei parchi sarà che io presiedo il parco dell'Arciferio Toscano che è un parco di isole laddove le specie aliene come sappiamo hanno gli effetti più devastanti sulla biodiversità chiaramente in una situazione già peninsulare la situazione è diversa voglio dire rispetto alle isole se vogliamo un pochino meno grave però comunque è un punto importante che penso poi sicuramente il parco riuscirà a sistemare ma comunque complessivamente sulla CEZ mi sembra veramente un lavoro eccellente che diciamo appunto colloca il parco delle 5 terre in un'ottima posizione a livello nazionale in sede di rinnovo e quindi complimenti a tutti voi che lo avete seguito mi ha interessato molto ecco la parte della trasparenza questo database che ci è stato illustrato è molto interessante molto interessante direi anche peculiare perché un po' altri parchi hanno strumenti di questo tipo ma questo mi sembra particolarmente interessante infatti proporrò peraltro al mio direttore del parco dell'arcipelago di interrompire col direttore Scarpellini per capire un po' meglio queste cose peraltro voi saprete che il parco delle 5 terre il parco dell'arcipelago toscano il parco dell'appennino tosco-emiliano gentiscono insieme una serie di servizi che abbiamo delle convenzioni che ci fanno che ci aiutano a lavorare in sinergia ecco questa cosa devo dire che mi ha molto interessato perché sul discorso della trasparenza tra parentesi noi ce l'abbiamo domani la giornata della trasparenza questi sono proprio i periodi delle giornate della trasparenza diciamo così e credo che appunto avere questa interazione con l'utente è stato fatto un esempio felice che è quello dei sentieri diciamo sicuramente aiuta i parchi a fare meglio il loro mestiere queste segnalazioni puntuali che poi ci ricordano magari una segnalazione da quanto tempo è stata fatta e quindi sono anche per noi uno stimolo a cercare di risolvere il problema il più velocemente possibile è chiaro che le segnalazioni come immagino arriveranno di tutti i tipi a volte saranno come succede quando si avviano diciamo interazioni di questo tipo talvolta ci sono delle segnalazioni che sono o eccessive o magari non pienamente centrate rispetto all'argomento credo che capiterà anche a voi quello che capita ovviamente a molti parchi che spessissimo nell'interazione con l'utenza con il cittadino i cittadini spesso pensano che tutto quello che in qualche modo ha un'attinenza con l'ambiente perché dentro un parco rientri nelle competenze del parco cosa che invece appunto molte volte va spiegato l'esempio più classico i rifiuti quante volte vi sarà capitato anche a voi che qualcuno vi scrive per dire magari ah in quel posto lì ci sono dei rifiuti all'interno del parco e magari uno si deve mettere lì a spiegare che la gestione dei rifiuti non è una competenza del parco anche se è una cosa che ovviamente dà documento all'immagine del parco la presenza magari di rifiuti abbandonati in una determinata zona però è una cosa che non rientra nelle competenze del parco e così addirittura mi ricorda molti anni fa questo qui mi ricordo quando ero presidente del parco della Maremma che venne appunto un residente all'interno del parco a lamentarsi perché non c'era l'acqua in casa insomma io ho cercato di spiegargli insomma i parchi fanno molte cose però non è che le fanno tutte soltanto perché sei dentro il perimetro di un parco ovviamente portiamo avanti le nostre competenze però secondo me un sistema interattivo in quel modo aiuta anche proprio a specificare meglio nell'interazione con i cittadini quali sono le competenze proprio dei parchi quindi perché a volte è anche difficile se arriva una lettera una segnalazione non tanto circostanziata è difficile poi magari spiegare effettivamente quali sono le competenze del parco stesso e quindi diciamo mi sembra un'idea appunto interessante da sviluppare da implementare anche all'interno di altri parchi anche perché diciamo molto spesso tante persone che si muovono all'interno di un parco ci danno delle informazioni più puntuali di quanto può fare il parco con le sue modeste quantità di personale come hanno tutti i parchi italiani e anche al limite con personale di vigilanza non sempre adeguato alle esigenze insomma anche lì quindi il fatto di avere questa interazione è secondo me una mano molto molto grossa e poi ci aiuta sempre di più a fare e a questo anche servono le giornate della trasparenza a fare un po' più di educazione civica cioè nel senso spiegare un po' come stanno i cittadini era emblematica quella slide in cui si vedeva il percorso da fare per un'opera pubblica con tutti i vari passaggi che ci sono prima di arrivare ad avere l'opera pubblica realizzata qualunque essa sia dalla manutenzione di un sentiero a in nostri casi l'allestimento di un centro di visite o di qualunque altra cosa perché chiaramente ad esempio quando vengono appaltati i lavori di un'opera pubblica chi sta da quest'altra parte sa perfettamente quanto è stato lungo e complicato il percorso per arrivare all'appalto per il cittadino comune non è successo nulla cioè nel senso che finché non vede che ci sono delle persone che lavorano alla realizzazione di quell'opera pubblica non è stato fatto niente magari c'è da fare la manutenzione dei sentieri il parco ha fatto tutto quell'iter che si compone di tutti quei passaggi ed è arrivata da giudicare ovviamente la gara per la manutenzione di quel sentiero è stato un lavorone che diciamo dal punto di vista temporale ed impegnativo è anche maggiore è sicuramente maggiore di quello che fare i lavori veri e propri e seguirli però tutte queste cose qui il cittadino non le sa e quindi magari avere la possibilità di spiegarle in quel modo lì aiuta molto diciamo a far capire anche le difficoltà alle quali andiamo incontro quindi io penso che questa cosa qui sia vostra giornata sia una cosa estremamente positiva purtroppo noi rileviamo che anche se dovrebbe essere un obbligo di legge non tutti i parchi fanno la giornata della trasparenza che invece è un momento molto importante anche di interazione purtroppo ora siamo costretti stante la situazione a farle con questa modalità che comunque ci consente di fare lo stesso ma comunque sono delle giornate che hanno sempre un valore molto importante io vorrei veramente che tutti i parchi ne comprendessero appieno il valore e lo utilizzassero sempre di più perché chiaramente il confronto poi con i vari soggetti con i stakeholder con i cittadini è quello che poi ci consente di fare sempre meglio il nostro mestiere e quindi io veramente vi faccio i complimenti e vi ringrazio per questa opportunità che mi è stata data riaccendo la telecamera così mi vedete tanto ora non parlo più grazie Gian Piero e prima di dare la parola a Donatella Bianchi per le conclusioni e i suoi saluti volevo ricordare a tutti che la giornata di oggi è stata registrata e sarà messa online i primi di gennaio così anche chi non ha potuto partecipare oggi la potrà recuperare sul nostro sito quindi Donatella ti do la parola per il tuo saluto e le conclusioni Solo pochissimi minuti davvero per ringraziarvi della disponibilità io in realtà sono molto curiosa poi di seguire il dibattito quindi il confronto che ci sarà a partire da gennaio l'abbiamo detto in premessa da questo confronto scaturiranno anche quelle che saranno le linee gli indirizzi che dovremmo seguire in futuro e quindi da questo momento partecipato certamente raccoglieremo tutte le indicazioni necessarie per proseguire su questa strada ovviamente faccio i complimenti al direttore Scarpellini a tutto lo staff a tutti voi a tutti coloro che hanno creduto in questo strumento in questi strumenti hanno lavorato in questi anni anche prima del mio arrivo io sono stata fortunata ho trovato praticamente il lavoro il grasso del lavoro fatto per cui per non disperdere invece questo straordinario patrimonio e valore aggiunto che avete voluto costruire in questo tempo è necessario appunto oggi credere ancora nella bontà di questo percorso e quindi investire anche per gli anni che verranno però sarà importante il confronto per questo sono molto felice di potervi incontrare nuovamente tra pochissime settimane sarà quello il momento anche della valutazione delle verifiche anche del recepimento di quelle che sono indicazioni importanti per cercare di sostenere e supportare tutti voi per proseguire insieme su questa strada ringrazio il presidente Sammori ringrazio tutti i partecipanti a questa nostra call di oggi ovviamente approfitto per augurarvi un Natale sareno sarà un Natale diverso naturalmente saranno feste diverse dal passato ma sono certa che saremo riscaldati dai valori nei quali tutti noi crediamo i principi i valori fondanti che rendono questo nostro territorio assolutamente straordinario e unico sono quelli che poi reggono appunto muovono la filosofia del parco sono quelli che ci guidano verso la sostenibilità quindi grazie davvero a tutti per questa vostra attenzione per questo vostro tempo tanti cari auguri a voi e alle vostre famiglie buon Natale e buone feste auguri a tutti saluti grazie a tutti